Abbiamo un grande onore, un'intervista con l'ingegner Giampaolo Dallara che nella giornata di ieri si è vaccinato a Borgotaro. Ingegnere, come è andata e come sta? Effetti collaterali? Come ha fatto la vaccinazione ieri a Borgotaro, effetti collaterali nessuno, è andato tutto benissimo, è andato tutto benissimo nel senso che l'organizzazione anche era perfetta, io avevo l'appuntamento per le 8.24, sono arrivato qualche minuto prima, hanno guardato i documenti e alle 8.24 si vede che si erano sincronizzati con un orologiaio svizzero, hanno cominciato a fare la mia vaccinazione, sono rimasto lì altri 20 minuti come mi hanno richiesto loro per essere sicuro che non ci fossero, che non avessi questo problema e poi sono andato e ho trovato un ambiente simpatico ma soprattutto di una efficienza incredibile, ordinati, scrupolosi, scrupolosi da morire, come è giusto. Ha incontrato anche, non è stato il primo però, il primo è stato Adelmo, lo conosce Adelmo? Che è sempre di Varano anche lui? Sì, 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 sì. Poi c'è stato anche Gino Bernazzoli, Enzo Bandini, eravamo diversi di Varano e tutti ci siamo trovati bene perché c'è stata innanzitutto l'accoglienza gentile ma soprattutto efficiente, assolutamente rigorosa, come è giusto che ci sia, ti fa piacere quando è così. E allora dico, non potevano fare meglio, adesso il mio augurio è che continuino così, a essere sempre efficienti come sono stati con me e gentili, veramente è proprio come ti aspetti da un'organizzazione pubblica efficiente, veramente non poteva essere meglio. Quale messaggio vuole dare questa sua vaccinazione? Cosa vorrebbe dire sui dipendenti ma anche agli italiani che la seguono, anche gli appassionati di corse? Appena potete fatela, starete meglio, fatele testare meglio gli altri, io mi sento già tranquillo nel senso che non vedo l'ora, mi dicono già ma fra dieci giorni sarei già un pochettino coperta, il 16 farò il secondo vaccino, ti cambia il mondo insomma, vedi che non puoi più fare dei malagli altri, non potrà venire il tenata, ormai ci sono vicino e quindi ci vorrebbero i vaccini perché il nostro sistema sanitario per fare le cose per bene poi ce la fa di sicuro senza problemi, veramente tutto. E' anche un segnale di ripartenza per tornare a correre anche in pista perché ovviamente questo dà maggiore vitalità anche all'impresa e a tutti insomma. Ovviamente tutto, quando si ripartirà bene tutti, quando tutti saremo sicuri insomma. Mi lasci dire che però tutto il servizio di assistenza di base, a cominciare dal medico, la farmacia qui che è disponibile, darti tutto l'euto possibile, è così che deve essere insomma, ma da noi è così, da noi è veramente così, veramente secondo me è come deve essere organizzato il servizio sanitario. E cosa vuole dire ai suoi concittadini? Fatelo appena potete, fatelo appena potete, non c'è proprio, è la cosa più semplice del mondo e starete meglio.